Buongiorno a tutti e benvenuti alla pausa caffè di Idea City. Oggi si parla di dieta dimagrante per foto e immagini e il tuo sito si posiziona meglio in Google. Perché la velocità di un sito dipende tanto anche dalle dimensioni delle vostre immagini. C'è proprio una linea guida di Google che dice di alleggerire il più possibile le immagini in modo che il vostro sito performi meglio. Vi faccio vedere come. Allora, intanto potete fare il test del sito alla pagina Google Page Speed Insight per vedere le prestazioni. Quindi cliccate Google Page Speed e digitate su questo link. Poi inserite l'url completo di HTTP qui dentro, quindi l'indirizzo del vostro sito e cliccate su analizza. Lui ci pensa un attimo e poi vi dà un risponso e vi dice, vi dà anche dei consigli su cosa fare, su cosa ottimizzare. Vi dà un punteggio. Se qui è verde, vi dà anche questo punteggio. Vuol dire che va bene, che state seguendo tutti i vari suggerimenti di Google per l'ottimizzazione della pagina. Se è giallo vi dà poi delle indicazioni e dei suggerimenti e se è rosso invece dovreste preoccuparvi un attimino perché se Google pensa che il vostro sito ha un punteggio che non va bene, vuol dire che sicuramente non vi posizionerete in modo ottimale perché già Google stesso non vi reputa bene nel suo punteggio. Quindi c'è da correre ai ripari e andare a leggere attentamente i suggerimenti per l'ottimizzazione. Tra i vari suggerimenti ci potrebbe essere proprio la voce ottimizza immagini. Qui il consiglio è, la corretta ottimizzazione delle immagini potrebbe farvi ridurre il peso della pagina del 26%. Quindi con poca fatica si può recuperare già un po' di questo peso. E infatti andiamo a vedere come si fa. La prima fase della dieta è togliere le informazioni inutili dalle immagini. Perché la dieta è delle immagini fatte in due fasi. Togliere informazioni inutili che possono essere le informazioni riguardanti la fotocamera, la macchina fotografica, il nome dell'autore proprio dall'immagine stessa che vengono memorizzate nel file ma che per una pagina web sono assolutamente inutili. Quindi questa è una cosa che si fa veramente in pochissimi istanti e adesso andremo a vedere con questo sito, Cracken.io, come si fa proprio velocemente. La seconda cosa è poi andare a controllare che le immagini siano ridimensionate giuste ma questo lo vedremo in un video a parte. Quindi in questo video andiamo a vedere come togliere queste informazioni inutili. Andiamo subito sul sito di Cracken.io. Digitate tranquillamente Cracken.io in Google e il sito che vi viene fuori è questo https2.slash.slash.cracken.io slash web meno interface quindi salvatevi questo interface, salvatevi questo indirizzo una volta che siete qui cosa potete fare? Una cosa molto facile prendete tutte le immagini che avete in una cartella quindi le selezionate con il mouse e le trascinate qui dentro qui dentro dove dice drag and drop cioè trascina cosa sta facendo lui? Sta facendo l'effetto dieta e per ogni immagine vi dice le dimensioni originali sono queste le immagini di Magritte sono queste ti ho salvato per questa immagine 5.9 kilobyte e per ogni immagine ti sta salvando se esagerate e mandate delle immagini che sono troppo grosse lui vi dice ehi passa la versione pro perché questa immagine è troppo grossa però è già molto comodo perché lui già solo con queste poche immagini mi ha risparmiato 34.95 kilobyte immaginatevi che in una pagina ci sia una galleria di 20 immagini e se voi le salvate tutte comunque avete già recuperato un bel po' di peso a questo punto potete fare download a una a una ma non ve lo consiglio perché è molto scomodo quindi vi fate il download di tutto lo zip quindi di tutte le immagini contemporaneamente possiamo fare quindi salva e a questo punto io cosa faccio di solito? mi faccio una cartellina che la chiamo ottimizzate poi lascio conservo le originali vado a mettermi le immagini ottimizzate nella mia cartellina me le riestraggo da qui, dallo zip e poi le vado a ricaricare sul sito così se lo fate per tutte le cartelle del sito che hanno immagini certamente fate un lavoro molto buono oppure potete farlo ogni volta che dovete se non volete andare a smanettare in questo modo ogni volta che dovete caricare un'immagine la potete passare attraverso questo Krakenio e sapete che comunque risparmiate del gran spazio questa è la prima fase la seconda fase la vedremo prossimamente in un altro video ciao, grazie per chi mi mette mi piace per chi mi ha condiviso seguitemi sempre sul canale di IdeaCity sulla pagina Facebook di IdeaCity oppure sul canale di Youtube di IdeaCity a prossima, ciao ciao